Ragazzi, se avete un punto zero, oggi giochiamo a Damogus! Oggi è da tantissimo tempo che vorrei fare questo video, però non ho mai avuto la possibilità di farlo. Quindi oggi, finalmente che sono libero, faremo una partita. Adesso vado in una mappa, in un server, eccola questo. GamePro, dai. Allora... Questa. Dai, la partita è iniziata. Questa. Madonna mia. Oh, guarda che se siamo tutto il tempo qua ad aspettare, mi ha... Oh, finalmente... Scuro, quindi mi va bene. Allora, io mi chiamo Inside the King. È un nome che ho scelto io. Mi piace molto, che sia un tipo... Nascosto... Vabbè, non mi ricordo. Ovviamente Inside, cioè nascosto... Non mi ricordo molto bene. Poi The King. Guardate qua la mia coroncina con tepellina. Però volevo vestirmi uguale a... È un personaggino di Roblox, che anche su Roblox esiste questa mappa. Una mappa di... Di... La tizio, toglie il mio colore, ti prego. Please. Please. Please, tizio. Oh, ma chi è quella che inizia? C'è uno entra e uno esce. Allora... Oh, e quando iniziamo? Clicca per copiare. Testo copiato. Vabbè. Niente male, sono pronto. Eh, me, 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 me. Faremo tutto il video qua. Allora, speriamo che noi sono pronto. Eh, dove sta? Ecco. Ok, non è che possiamo stare due ore qua all'aspettare. Ma... Allora, mi sa che faremo tutto il video qua. Infatti le persone più a più si stanno andando perché non... Perché il tizio non parte. Cioè, quindi dovremmo fare tutti i video qua. Ma dai. E' un po' fico. Meno impostori. Ma che se lo dobbiamo fare? Tutto il video qua mi arrabbio. Ed esco. E' un po' fico. Ma non mi ha dato proprio il cavolo forte. esco c'è una donna siamo 15 perchè non mette pronto e dai ma ne riesco anch'io non ce la faccio più abbandono madonna mia 5 minuti ci siamo persi là dentro non inizierò più andiamo qua adesso e sono altre due ore oh scavaldi che colore so oh provo all'improvviso subito subito speriamo che adesso so di un colore bellino se due ore e dai sono astronauta almeno qualcosa di bellino no ragazzi comunque sapete che sapete che quando siete ovviamente ingegneri ma non ho messo questa cosa qua nuova ovviamente quando siete ingegneri potete usare l'event e niente madonna ha fatto una strada e mo dico chi è allora il tizio blu e l'impostore va in via dove sto ecco ecco qua ecco qua guardiamo questo tizio qua come si chiama ex flurry dove sta ah ecco questo ok la maga ha votato ok vediamo speriamo che uno ma dai abbandonato vediamo ecco infatti lo sapevo che era lui infatti c'è tre impostori in flurry mi sta seguendo vabbè no qua non c'è niente qua nemmeno ecco qua tipo ecco qua devo fare pure questo dai ok grazie che bello fare subito la tasca della card ricordo ancora i vecchi tempi la che ci rimanevo tre ore la da fare tip tip no un mio socio vecchio vecchio madonna ma sempre fanno sempre le str- chi è fan qui è un impostore io ero sull'incarico riparacavi fan qui fan qui l'ha fatto cosa l'ha fatto ragazzi secondo voi cosa ha fatto oh che bello no io sono rosa non sono fucsia yes ragazzi ok rimane solo un impostore no 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 ma non male ma non male ma non male no dai walker no 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 dai chi potrebbe essere chi è secondo me è scratica secondo me è scratica stratiche proprio ma infatti ma infatti no 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 tra me è stratiche ragazzi sono convinto che è stratiche perché mi sta troppo guardando e poi quando probabilmente se n'è andato poi è ritornato nella barretta la sopra quella lì non si è mossa e faccio questo ok posso tormentare le persone bello questo ma non è così perché sono lì mi faccio attormentarlo mi faccio attormentarlo voglio tormentare no ma 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 ho capito ho capito quindi non c'è l'occhio l'occhio con il tizio tizio strati che te le porta e adesso e adesso vediamo ragazzi speriamo speriamo che speriamo che vinciamo dai speriamo aspetta aspetta dai si sa che chi sta parlando si sa che sky gamer si sapeva nel voto siderale vittorine tintin 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 va bene ok allora ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Da me È tutto Iscrivetevi al canale Lasciate il like E ciao